ciao a tutti oggi vediamo come si applicano gli effetti ad un livello di una composizione con questa lezione non intendo esplorare tutti gli effetti di after effects perché sarebbe impossibile farlo con una lezione soltanto anzi probabilmente ogni effetto avrebbe bisogno di una lezione dedicata perché ogni effetto ha proprietà a sé stanti comunque incominciamo la lezione per creare una nuova composizione composition new composition denominiamo applicazione effetti manteniamo il solito preset 10 secondi sono sufficienti sfondo nero ok benissimo allora incominciamo col inserire nella timeline un disegno prendiamo la della marina come si aggiunge un effetto ad un livello innanzitutto bisogna selezionare il livello sul quale si vuole applicare l'effetto quindi in questo caso seleziono della marina nella timeline vado nel menu effetti e questo primo elenco che compare qua non è l'elenco degli effetti è l'elenco delle categorie di effetti se io per esempio mi soffermo un attimo sulla categoria blur and sharpen che è la categoria degli effetti che sfocano vedo che a destra si apre un sottomenu questa elenco qua è l'elenco di tutti gli effetti di questa categoria qua e mi soffermassi sulla categoria distort per esempio che serve appunto per distorcere l'immagine in vari modi avrei tutto questo elenco di effetti qua categorie ne esistono tante poi io qui ho anche categorie che non appartengono agli effetti base di after effects per esempio uno famosissimo è quello della trap code particolar che sicuramente in futuro vi presenterò meglio comunque torniamo a come si applica l'effetto a questo livello facciamo che voglio un effetto ombra quindi l'effetto ombra io so che sta nella categoria prospettiva perspective scelgo l'effetto drop shadow che è il classico effetto ombra applico già si vede l'effetto applicato a livello si vede una sottile ombra intorno alla figura qui ma dov'è che io controllo l'effetto l'effetto lo controllo qui sulla sinistra nella finestra effect control che automaticamente si è messa in primo piano qui qui vedo i parametri di quell'effetto qui questo effetto ha 1 2 3 4 5 6 parametri che possono essere manipolati per modificare l'aspetto dell'effetto adesso prima di modificare un po l'aspetto di quest'ombra vi faccio notare che le proprietà di questo effetto non solo le posso vedere nella finestra effect controls ma le posso anche vedere direttamente nella timeline dentro il livello e come si apre il livello nella timeline c'è sempre la sezione transform e c'è anche una sezione effects che si è creata automaticamente nel momento in cui ho applicato il primo effetto a questo livello dentro la sezione effects c'è l'effetto drop shadow e se apro l'effetto drop shadow vedo di nuovo le stesse proprietà che vedevo là nella finestra effect controls quindi io posso tenere sotto controllo l'effetto sia nella finestra sopra effect controls sia nella timeline qua bene adesso vediamo rapidamente le proprietà di questo effetto è una proprietà che si chiama shadow color qui a destra c'è una palette se io clicco su quella palette al momento dice che l'ombra è nera ma potrei darle un colore che voglio ok potrei scegliere qualsiasi colore come si sceglie un colore per il testo per gli shape layer per qualsiasi cosa ma in questo caso no la lascio nera do l'ok c'è una proprietà che si chiama opacity grandisco un po l'immagine così la vediamo meglio ecco qua infatti l'ombra non è perfettamente nera è semi trasparente e questo parametro opacità gestisce appunto l'opacità dell'ombra zero non la vedo più a 100 per cento e nera completamente riabbassiamo poi c'è la direzione dell'ombra e si gestisce o aumentando diminuendo i gradi della direzione o addirittura a mano prendendo queste lancetta come quella di un orologio e girando questa lancetta indirizzo l'ombra dove voglio si lasciamo la verso basso a destra poi c'è la distanza vediamo cosa succede se l'aumento è la distanza dell'ombra dall'oggetto ok e poi c'è la softness aumenta o diminuisce la sfumatura lungo il bordo dell'ombra poi c'è un tasto shadow only addirittura che vediamo che fa elimina l'immagine contenuta nel livello e lascia soltanto l'ombra potrebbe essere utile per creare rapidamente delle silhouette cioè elimino tutti i colori rimane solo la forma nera della stella e spegniamo shadow only bene questo è un effetto tra i più semplici e una volta applicato io lo posso tenere sotto controllo sia in questa finestra sia qua sotto operazioni che ho fatto su le potrei fare anche qua sotto posso gestire la distanza anche qua benissimo proviamo applicare un altro effetto ad un tipo di livello diverso adesso elimino la stella dalla timeline e prestiniamo il monitor più piccolo adesso avrei bisogno di tornare alla finestra progetto qua sulla sinistra ma al momento è ancora attiva la finestra effect controls ma come vedete qua su in cima questo spazio qua è diviso sia da effect controls che dalla project addirittura io potrei prendere la finestra effect controls prenderla così e trascinarla qui a fianco in modo da svincolarla dalla finestra progetto in modo che le vedo tutte e due e teniamola qui per questa lezione così non si confondono bene adesso dalla finestra progetto prendo una fotografia esempio questa la riduco un po' e a questa fotografia applico un effetto quindi di nuovo seleziono la foto nella timeline vado nel menu effetti e questa volta voglio applicarle un effetto della categoria transition poi vediamo perché esattamente voglio applicarci questa qua venetian blinds le tendine veneziane i parametri dell'effetto si aprono nella finestra effect controls anche questo effetto non ha molti parametri e se voglio vedere gli stessi parametri della timeline non devo fare altro che aprire contenuto del livello andare nel sezione effects e aprire venetian blinds bene proseguiamo a vedere un po come funziona questo effetto il primo parametro è a 0 se l'aumento fino a 100 la fotografia sparisce lo riporto a 0 la fotografia compare ma la transizione ha la forma così di queste righe di queste come fosse appunto una tendina veneziana vediamo se si vede la dimensione di queste righe qua dipenderà sicuramente da qualche altro parametro probabilmente dal parametro width larghezza vediamo infatti se aumento questo parametro qua quando poi io agisco sul primo parametro da 0 a 100 vedete che la fotografia sparisce con queste tendine ma le tendine sono un po più larghe magari mettiamolo un po più stretto così poi un altro parametro che potrebbe controllare questo effetto è l'inclinazione lasciamolo così inclinato è il feather anziché avere delle linee ben definite potrei sfumarle ma lasciamo a 0 bene ho applicato questo effetto perché a differenza del primo dove ho soltanto aggiustato i parametri e poi tutto finiva lì in questo caso ho applicato l'effetto perché voglio anche animarlo cioè voglio far apparire la fotografia in questo modo qua all'inizio non c'è e poi appare con questa transizione a forma di tendina veneziana quindi in questo caso io dovrei mettere dei keyframe alla proprietà che gestisce questa transizione in questo caso particolare la proprietà si chiama transition complexion quindi avrei bisogno di mettere due keyframe lì e per mettere i keyframe l'operazione va fatta obbligatoriamente nella timeline perché i keyframe sono visibili solo nella timeline quindi vengo nella timeline cerco la proprietà transition complexion e decido questo che al tempo zero la fotografia non si vede quindi prendo la proprietà transition complexion e vedo qual è il valore da dare per far sparire la fotografia e il valore abbiamo visto che è 100% quindi adesso clicco l'orologio di transition complexion e do il primo keyframe di questa proprietà qua bene avanzo nella timeline fino a un secondo circa e qui voglio che la foto sia completamente visibile quindi vado a vedere qual è il valore da dare a transition complexion e in questo caso è zero accorcio la work area faccio partire la preview ho fatto un'animazione sulla proprietà transition complexion e l'effetto venetian blind le tendine veneziane fermo posso naturalmente anche su questi keyframe messi sugli effetti applicare la morbidezza l'easy ease f9 farlo un filo più morbido ok mentre la preview sta andando posso anche regolare gli altri parametri per esempio la larghezza magari mi accorgo che sono troppo larghe queste strisce diminuisco questo valore vediamo se magari è meglio così ho abbassato il valore larghezza però intanto la transizione funziona lo stesso benissimo oggi per completare il discorso sugli effetti vi faccio notare un'altra cosa che per esempio io qui a questo livello non solo posso aggiungere questo effetto di transizione ma gli posso aggiungere anche un secondo effetto perché a un livello si possono aggiungere più effetti e per esempio potrei applicare anche a questo livello l'effetto ombra quindi vado anche per lui in effetti prospettiva drop shadow magari aumento un filo la distanza quindi ho la transizione animata e contemporaneamente l'ombra giusto un po' la distanza magari abbassero l'opacità benissimo quindi direi che questa lezione di introduzione su come si applicano gli effetti può finire qua naturalmente avanti nel corso esploreremo qua e là anche molti altri effetti nel momento in cui tornano utili quindi per questa lezione è tutto ciao e ci vediamo alla prossima